I furti delle ultime ore in provincia di Sernia generano allarme sociale. I ladri nei giorni scorsi hanno visitato alcuni appartamenti ed esercizi commerciali nel capologo Pentro ed anche in alcuni paesi dell'Interland. Le forze dell'ordine stanno impiegando uomini e mezzi sia per prevenire questo odioso fenomeno sia per identificarne gli autori. Il comandante provinciale dei carabinieri di Sernia, Vincenzo Maresca, da un lato vuol tranquillizzare la popolazione. I dati infatti sono in linea con gli anni scorsi. Dall'altro chiede la collaborazione dei cittadini per presidiare adeguatamente il territorio. Colonnello, se io dico ondata, lei mi contesta? Un po' contesto, sì. Non è sicuramente un'ondata di furti perché possiamo ricordare quello dello scorso anno in Alto Molise, lì potevamo dire, anche se la parola non mi piace, ondata di furti, che però è stata contrastata benissimo sia da noi che dalla Polizia di Stato con un cambiamento degli orari delle pattuglie e quindi un abbassamento del numero di reati. Stamattina abbiamo controllato proprio questo e diciamo il numero dei furti in abitazione è uguale agli scorsi anni. Si può paragonare a quelli di 2018-2019, anni anche senza pandemia. Nei scorsi giorni ci sono stati alcuni furti, ma possiamo dire che abbiamo notato per tutti delle peculiarità, cioè i sistemi di antintrusione praticamente erano quasi completamente inesistenti, addirittura in un furto avvenuto nel circondario non c'era nemmeno la serratura nella toppa e quindi dobbiamo evitare che i ladri abbiano gioco facile. La conformazione del territorio è particolare, le pattuglie sul territorio ci sono, sia nostre che della Polizia di Stato, però delle raccomandazioni ai cittadini dobbiamo farle. Il primo di tutto è di adottare delle idonee misure di autotutela e molte volte il sistema di allarme c'è ma non è inserito perché magari il proprietario di casa si dimentica. Poi di avere dei buoni rapporti di vicinato, visto che molte sono abitazioni isolate e quindi quando qualcuno lascia casa da sola magari avvertire il vicino che nella villetta a fianco non c'è nessuno in modo che il vicino possa dare un occhio e questo può avvenire a vicenda. Abbiamo visto che si sono intensificate le telefonate al 112 per segnalarci macchine sospette, però questo non è mai abbastanza nel senso che il 112 è a disposizione così come il 113 della Polizia bisogna chiamare, bisogna segnare i numeri di targa, avere una sicurezza partecipata da parte dei cittadini e quindi aiutarci a fare il nostro lavoro. Queste telefonate ci hanno aiutato, abbiamo fermato le macchine che ci hanno segnalato e sicuramente abbiamo sventato dei furti, non possiamo sapere quanti perché l'attività preventiva è fatta da un numero scuro, però sicuramente abbiamo evitato che se ne perseguissero altri e poi avere anche dei buoni sistemi di videosorveglianza perché una volta effettuato il furto almeno abbiamo la capacità di individuare gli autori e di reprimere il reato e non permettere che ne vengano altri.